Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Pixmo, mi raccomando lasciate mille like e tanti commenti qui sotto E oggi andremo a fare una puntata molto semplice, avete visto la puntata di ieri in cui c'è stato Hezengard? Spero di sì Oggi è venerdì, siamo quasi vicino alla fine della settimana e finalmente potrò fare evolvere il mio Monferno, il mio Starevia Che sinceramente aspetta da un bel po' di livellare Ho recuperato un po' di roba e sto prendendo in qualche modo un paio di questi supplement che mi serviranno vicino a casa in quanto ne ho sempre bisogno Voglio andare a casa di Xander che è lì a 1300 metri per fare un paio di cosette, visto che ho 42 livelli Avete già capito che cos'è? Spero di sì, in ogni caso prendiamo il nostro bellissimo Charizard e andiamoci Visto che qualcuno di voi si è lamentato del fatto che in realtà ho spoilerato cosa di Xander Quando in verità l'abbiamo fatto in live ragazzi miei, non è che sinceramente è una cosa strana Cosa faremo? Nel tutto cercheremo di non laggare come abbiamo fatto adesso, ok Seconda cosa, non vi farò vedere casa di Xander ma andremo subito a Xpare velocemente a fare quelle cose che mi servono E poi vi faccio vedere che cosa ho fatto Ok, ho fatto un po' di roba, ho fatto tipo questi piccoli, vedete qua che figata E ora devo fare efficienza 1, efficienza 1 e faccio efficienza 2, efficienza 2, efficienza 2 qui sopra Mi dà efficienza 3, indistruttibilità 3 e poi c'ho indistruttibilità 1 che lascerò qui In realtà indistruttibilità 3, 2 solamente, tipo 2, si 2 normalmente Quindi va bene, ora non so se Xander ha un pezzo di ferro magari che vuole donarmi So che vi sto preparando una parte di casa quindi lascio stare e mi giro a questa parte Niente, torniamo a casa, comunque vi ho fatto una bella enchantata, niente male Allora ragazzi miei, sono tornato un attimo a casa perché sto recuperando un po' di legno E nel frattempo lo sto trasformando tutto il legno già lavorato Perché voglio farmi un po' di libri e iniziare a creare le nostre prime librerie Ora, so che non ho un enchanting table, questo perché ovviamente non ho un picco Perché con i diamanti in realtà ce l'ho, non c'ho abbastanza da dove poter rifare tutto il resto Ho ancora durabilità, noi questo non lasciamo perché in realtà mi servirà Ho bisogno però di diamanti per poter andare avanti e non ne ho per nulla Però credo di poter trovare qualcosa da qualche parte qui in giro Tipo a casa di game reading, così molto perché, così, perché secondo me si possono trovare un po' di robe Volevo farmi però prima di tutto un paio di libri, 17 libri va benissimo come cosa Perché così riesco a fare almeno 5 librerie Che comunque è un buon numero ragazzi, non scherzate, è buono davvero Ok, 5 librerie, niente male Ora però va creata anche una stanza qui sotto Ho bisogno del mio piccone con, eh, un'istruttibilità 1 Lasciamo i nostri due cosi piccone qui dentro Tipo, almeno li lasciamo senza problemi qui dentro Lasciamo questa roba qui Ok, e iniziamo a costruire Credo che, eh, di qui andrò a creare la mia zona Vieni a giocare all'ordine? No Ok, di qui facciamo la nostra zona Eh, in cui, eh, costruiamo un po' di robaccia Allora, iniziamo a fare prima di tutto questo piccolo coso Credo che così dovrebbe andar bene Ora, magari ti muore un Pokémon Ma no! Ma no! Charizard sarà molto cattivo dopo, dopo questa affermazione E devo, devo però, fare una cosa molto importante, ragazzi miei Probabilmente farà da questo lato e non da questo Per un semplice motivo Le mie scale sono a 2, non sono a 3 Questo significa che la mia stanza non sarà mai, eh, diciamo, centrale come vorrei Quindi dovrò sicuramente fare così per il momento Devi schiacciare No! No! Raga! Raga, andate sotto al video di Xander e insultatelo pesantemente Mi sta insultando la squadra, ragazzi E io non amo questo genere di cose Quindi andiamo a insultarlo tutti insieme E siamo felici e contenti di questa cosa Allora, sì Ok, a parte questo Dobbiamo quindi No! No! Si spamma pure, raga! Ma no! Cioè, vabbè, ok No, 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 sì, sì, tranquilli, raga Poi risolviamo sta facendo Allora, dicevo, bisogna fare in questo modo Tutto, mettiamo un po' di torcia E vediamo un po' come va Ok, spianiamo questa zona Ok, ragazzi, è stato un problema Da questa parte non possiamo andare Perché in realtà Eh, diciamo che abbiamo avuto un po' di problemi Chiamiamoli così Nel senso che se buttiamo questa parete giù Eh, facciamo vedere la casa In realtà non vogliamo questa cosa Quindi per il momento dovrò fare da questa parte Il tutto Allora, infine, mi va bene comunque Non è che fossi troppo interessato A un lato o all'altro Ora Prendiamo l'andesite E disegniamo il punto centrale Ora, qui dovrebbe esserci La nostra enchanting table E qui, quindi, significa che Dobbiamo fare tipo Tutto il resto Quindi, che ne so Facciamo in questo semplice modo A me lo segniamo il punto E poi ovviamente sarà in salita Lì ci metteremo magari Eh, no In realtà non potrei farlo Potrei farlo Qui, magari Potrei mettere due Eh, cose molto interessanti Eh, non credo di avere Tipo della glowstone No Potrei fare delle lampade Però ovviamente Ho bisogno sempre di glowstone Niente, ovviamente Niente glowstone Niente roba Però possiamo prendere un po' di comestone Per chiudere almeno questo buco Aspettate Ok E dobbiamo quindi Prima di tutto Sistemare un paio di cosette Trovare se possibile Dei diamanti Allora, iniziamo Prima di tutto a piazzare Le nostre librerie Iniziamo facendo Uno, due Ok, in questo modo Magari questa non era il massimo Ok E Uno, due Ora Dovrebbe fare Uno, due Tre, quattro Cinque, sei Sette, otto Nove, dieci Unde, dodici Ci sono dovrebbero bastare Quindi dovremmo arrivare già a un massimo Adesso ho sbagliato A mettere questa libreria Quindi dobbiamo romperla Dobbiamo ricraftarla Aspettate E non ho del legno Che palle ogni volta Non avere Quella roba che ti serve Ok, di questi Dobbiamo andare così Molto easy Ok, farci un'altra libreria E piazzarla per esempio Qua in mezzo Ok Qui ovviamente Vale in chatting table Come ho già detto E magari Da questa zona potremmo Anzi Questa zona la potremmo anche usare Per fare le varie chest Dei vari libri incantati Sapete A questo punto direi che È un'ottima, ottima idea E magari le potremmo fare In modo figo In modo bello Tipo anche facendole Normalmente con la legna Credo di sì Dovrebbe funzionare Forse Eh sì, si potrebbe fare Proviamo un attimo A recuperare un po' di chest Forse Forse andiamo qualcuno Qui dentro Sicuramente quattro Credo di averne altre Da queste parti Due E non penso di averne altre Perché no C'è un'altra Ancora Ovviamente Abbiamo tutto necessario Sempre pronto e utile Ok In questo semplice modo Ovviamente dobbiamo Fare le chest diverse Possiamo fare quelle in ferro Poi in futuro Poi vedremo questa cosa E in sostanza Dovremmo fare così Tipo Nel senso Per ogni Incentimento Quando faremo i libri Creeremo qualcosa di bello E di utile Direi che All'infine È un'ottima idea È un po' strata A sta stanza Dovo dirlo Però Chi se ne fotte Sinceramente Potremmo aumentare un po' Il tetto Anche se Di cui poi potrebbe Essere un po' Pericoloso Non è pericoloso Il fatto che comunque Voglio saltare Anche questa zona Anche se è piccola Chi se ne fotte Voglio saltare in ogni caso E dovrei Tranquillamente farcela Ora Il problema essenziale Il problema molto grande È trovare dell'ossidiana Un problema semplice In realtà È trovare dei diamanti Cosa molto complicata È molto difficile da fare Anche perché Non ne ho abbastanza Non ho nemmeno un libro Questo lo possiamo comunque recuperare Questo non è un problema Alla fin fine Il problema più grande Ragazzi È come ho già detto Il fatto di non avere Un benedetto Due benedetti pezzi Di diamante Quindi lo trovo un po' di diamante Ci vediamo fra poco Appena ne trovo un paio Ecco qui La zona molto importante E molto bella Dove possiamo recuperare Un po' di ossidiana Ovviamente Mi sono dimenticato il piccone E mo Devo pure risalire Che palle Chiediamo un attimo questa lava Magari Almeno non ci bruciamo In qualche modo Anche se in realtà Morire nella pixiamone è difficile Ma c'è gente che ci davvero muore Sanamente Va bene Ma facciamo finta Che sia una cosa normale E andiamo Alla ricerca di un po' di diamanti Andiamo un po' Da questa zona non c'è nulla Ma siamo fortunati In realtà Abbiamo cercato sempre Le zone sbagliate E per culo Dico per culo Quindi significa Che comunque non succederà mai Potrei trovare Dei diamanti a muzzo Un po' in giro Ora siamo a livello 12 In realtà È un livello più che giusto Per trovare i diamanti Magari a livelli un po' più alti Potrebbero spuntare Ma con meno facilità E no Questa zona è un po' finita Qui c'è un po' di ferro Lo prendiamo In realtà c'avevo già del ferro Già cotto Che doveva cuocere Infatti c'è tipo uno stack Nel porto sotto Tipo 16 con me E no Per il momento Non credo ci sia molto Però credo qui sotto Ci sia altra lava Forse no È sufficiente Questa lava Che dà problemi Che dà suoni Bruttissimi Ok Buttiamo giù un po' tutto Prendiamo questo Bellissimo E fantastico Pezzo di Di apislazio Lì E Cerchiamo un po' Questi diamanti Ragazzi Ragazzi li ho trovati a culo Tipo ho visto che c'era L'altra lava Ho detto Fammi scavare qui Magari E scatare qualcosa E in effetti Ci sono diamanti Solo uno Spero Oh no Sono due ragazzi Sono due Se sono cinque Mi butto giù Come un deficiente Ah Guarda che bello Oh Figata Quattro suono Va benissimo E credo di poter prendere Anche un po' di ossidiana Per andare nel nether Potremmo essere i primi Ad andare nel nether Ma lo faremo Nella prossima puntata Quindi per il momento Ci accontentiamo Ok Vediamo un po' di qui Altra lava Sì c'è altra lava Non ci interessa molto Quest'altra roba E va bene Va bene Quattro diamanti Va benissimo Sinceramente Possiamo anche riparare Il nostro Piccolo amico Se vogliamo Piccone E bene Torniamo un attimo A casa Tipo da questo lato Credo da qui Ahia Mi sono fatto un po' male Vediamo un po' di qui No dove si esce Scusi Dove sono entrato Di qua Ok Torniamo un attimo a casa In frattempo Xander ha abbandonato tutto Ha detto Ciao vita Non voglio più averti con me Nel frattempo Dicevamo Bisogna farci un paio di questi Un due tre Ok E facciamoci stai Anvil Almeno la teniamo a casa nostra Non dobbiamo andare a casa di Xander A rubare sempre tutto Che poi mi dite Capita raga Capita Stavo un attimo vedendo Quanto ci voleva Per riparare il mio piccone Con l'industritibilità Si Ciao italiano Portami via Con questo coso Magari con uno solamente Undici livelli Però in realtà Me ne servono gli altri Che poi vabbè In effetti no Non mi servono Cioè magari ci tengo un po' di roba Magari potremmo anche usarlo Due volte 13 Non ce la faccio Perfetto Niente niente Aspettiamo un pochetto Andiamo però a recuperare la roba Se la fate da dove Da una parte molto interessante E molto bella Però ora non la voglio rovinare Quello luogo Tipo c'è sulla mappa Per accedere Un mezzo cuore A forma di lava qua Sulla destra Cioè raga E strabello Però non voglio rovinarlo Perché sennò mi dispiace Quindi scendiamo Sbicciate di qua Inoltre c'è un po' di ossidiano Benissimo Abbiamo tutto necessario Quindi il tempo di salire Un attimo questa scala E poi finalmente Potremmo essere I padroni del mondo Ragazzi miei Finalmente poter fare Anche il livello 30 In realtà non credo Di potercela fare Perché mi mancano ancora Un sacco di librerie Ma 65 In realtà me ne servono ancora 3 No 7 7 si Sono 12 A livello massimo E ovviamente ho sbagliato Una cosa Ovvero mi serve Un libro che ho qui dentro Bam Butta sta cosa Libro In questo modo Ragazzi miei E due diamanti Bam Ok Cosa posso fare con questi diamanti Scusami Diamond bullet No Che stronzata Ragazzi abbiamo L'incantatore Ulisse Pronto E figata Qui Guardate la roba Ok Posso incantare fino al 13 Ok Quindi significa che mi servono Altri 17 livelli Oddio perché 17 livelli In realtà è 14 Il massimo Vero O 16 10 10 10 Come 10 Oh Scusami 11 10 10 Dovebbe essere 14 Il massimo ragazzi Credo 12 15 No no Arriva fino a 16 Quindi mi sta dicendo Ok arriva fino a 16 Ragazzi Con solo 5 librerie Questa cosa mi piace Ora Devo andare a farmare Altri piccoli amici Ma prima di tutto Prima di poter fare tutto questo E Rendici conto del fatto che siamo quasi a 10 minuti di video In realtà siamo già superati i 10 minuti di video Vado a casa di GameRilly Rubo tutte le nostre bellissime cose che ci piacciono Ovvero le nostre canne da zucchero Senza dover fare una farm automatica Che Le autocrafta e le auto usa Sinceramente E siamo tutti felici ragazzi Quindi vado a rubare un po' di cose Da casa di GameRilly Ma noi ci vediamo Nella prossima puntata Come sempre lasciate un bel like Mi raccomando Arriviamo a 1000 like per questo video Ci tengo Mi raccomando Quindi lasciate 1000 like Se volete altri episodi Da pixmon Ogni giorno Mi raccomando Troppo mi raccomando Sono scemo Sto diventando E oltre a questo ragazzi miei Se volete Potete iscrivervi qui sotto Al canale Così potrete seguire bene il canale Mi raccomando E se siete da cellulare Ricordatevi che esiste una campanella Sul canale In cui potrete Insomma Ricevere delle notifiche Ogni volta che caricherò un video Quindi Potete usufruire di questa campanella Per non perdervi nessun video Oltre a questo C'è anche una cosa importante Qui sotto trovate i tre social Più importanti che uso Che sono Frager E Instagram E Facebook E posto principalmente Notizie del mio canale Di me stesso Giornalmente Quindi se volete Andate un po' a vedere Rubiamo un po' di uova Da GameRilly E noi ci vediamo Nella prossima puntata Ciao ragazzi Oddio qualcosa è gigantesco